non esagerare è calmo bravo è pieno vedi dove butta fuori questo è l'altro dove butta fuori vedi dove butta fuori quello là è quello che arriva e no perché lì è fonda non ci arriviamo alla vacca dobbiamo andare in giù dobbiamo riuscire a pulire quel pezzettino qua sì sì per forza via è troppo fonda lì è troppo fonda lì è troppo fonda lì è troppo fonda lì è troppo fonda direi mica che è fredda è troppo fonda lì grazie è troppo fonda lì è troppo fonda lì che da there è troppo fondamentale è troppo fondamentale ? Grazie a tutti.